Buonasera, ok funziona, grazie, 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 grazie mille, andiamo, allora questa in realtà è la mia seconda registrazione perché la prima non è entrata molto bene, nel senso che ho cambiato l'alimentatore interno del Dreamcast, funziona a meraviglia, non sta dando problemi, ho cambiato anche il cavo video, lo vorreste vedere leggermente meglio, un po' più definito, però sta dando problemi il lettore cd, e quindi, o meglio, il cavo video sta andando bene, perché voi vedete meglio, anche vedo meglio, però io vedo in 16-9, che non va benissimo, nel senso che i giochi erano pensati per 4 terzi, e quindi, voi lo vedete comunque in 4 terzi perché ho modificato il ratio del video. Spruzza, spruzza, e poi ci dedichiamo i simen. Sono tante, ce ne sono tante, tante, eh, sono tante cose, c'è una crisalide, ci sono tanti bruchi, che mi va bene per adesso, eh, però. Sì, ma non ti compenetrare come prima cosa, eh, insomma, perché? Hello? Hello? You and me on a Friday night, who could ask for anything more? Vero? Porca! No, mi sono stupito perché, effettivamente, è venerdì. Si, in effetti, non c'era tanto da stupirsi, ok, che il Dreamcast è anche un soldo di... Don't make me laugh! ...fine il 98, 99, 97, 98, 99. Però, il calendario ce l'avevo, tranquillamente, calcolare i giorni della settimana, non era così astroso, per purtroppo. Hello? Nothing. Nothing? I love you. Non l'ho preso. I love you. I love you. Get some rest, then. Mm, 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 mm. Talk. Nope, I'm just fine. Talk. I'm sorry, were you speaking? No, io si, io si. No, io si, io mi ho preso. Faccio solo il TK. Buone. Ho fatto un solo caricamento. Ho solo il CD che è lento, o... Vabbè. Hello? Hello? This better be good. Talk. No, mi stai cagando? Mi stai cagando? Sì, mi hai cagato, stronzo, Tork. I know you're not talking about me. Oh cazzo, Tork. That's all I have to say for now. I'll talk to you later. Cazzo dici? Abbiamo finito il discorso ieri. Vabbè, provo con l'altro che magari è più ricettivo. I sound like Santa. Sì. Hey, go tickle yourself. I'm busy. Allò? Hello. Ho there. Tork. Can I help you? Tork. I know you're not talking about me. Oh shit. Tork. Then go away. Tork. Tork. I know you're not talking about me. But what a cazzo. What? Oh, knock it off. I sound like Santa. Tork. Let's talk. You know, it struck me that I've been around you for quite some time now, participating in your daily routine. However, I'm not quite sure exactly where we are. I'm guessing we are somewhere in America, but the details are fuzzy. No. Like you, fuzzy. Anywho, I was wondering if you'd be so kind as to tell me which state we're residing in currently. Italy. I don't think that's one of the 50 US states. No, infatti. At least not as I learned them. Let's try this again. What state are we in, my mammalian friend? Italy. No, non gli piace. Oh, oh, cramp, cramp. Gotta shake it out. Oh, cramp. Devo per forza dirgli uno stato americano? Che merda. In effetti questo è un gioco per la console americana. Ah. Porca miseria. E quindi? Che gli dico? L'uomo California. Florida. Nebraska Who are you? Hello Howdy partner Let's talk I don't want to You're a shame Let me start over I said You know It struck me that I've been around you For quite some time now Participating in your daily routines However, I'm not quite sure Exactly where we are I'm guessing we are somewhere In America, but the details Are fuzzy Like you, fuzzy Anywho, I was wondering If you'd be so kind As to tell me which state We're residing in currently California I don't think that's one Of the 50 US At least not as I learned them Let's try this again What state are we in My mammalian friend Florida Which state do we live in then? Italy You know what? I need a break Be back in a bit I thought I thought we'd have taken That we were out Talk From the United States Let's talk Something Che stronzo Che stronzo Vabbè Andiamo a vedere qua Saranno schiose le uova Se ci sono le uova Che non le ho viste in effetti Non è che È troppo popoloso e quindi non mettono più uova? Ciò è male Ciò è molto male Quindi togliamo un po' di brucchi Così Che cazzo vai Splotta Eh Perchè lo prende dopo? Presso Ok Tiè Oh no no solo uno alla volta Porca pupazza Va bene Hello Oh Mi devi cagare No 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 But thanks for asking No Really Ma che? Let's talk I'm mad at you right now So go away Come? Perchè Ti faccio solo tempo? Ass тех Wait Hohohohohohohock I sound like Santa Hohoho gateway No, dovresti collaborare, ragazzi. Sì. 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 Mi dico Hawaii, è semplice Hawaii. I'm guessing we are somewhere in America, but the details are fuzzy. Like you. Fuzzy. Certo. Anywho, I was wondering if you'd be so kind as to tell me which state we're residing in currently. Hawaii. So we live in Hawaii? Sì. Hmm. Let's pause here a second. Woohoo! Oh yes, baby! Oh yes! I'm okay now. So which island are we talking about? No. Faiba. Let's think about what you said, shall we? I'll see you later. Ma cazzo, ha preso Hawaii invece di Ohio? Ma io che ne so delle isole dell'Hawaii. Porca miseria. Onolulu, li devo dire eh. Onolulu. Diciamo Onolulu. Let's talk. Hello? Okay, one more time. Bye. I said... You know, it struck me that I've been around you for quite some time now, participating in your daily routines. However, I'm not quite sure exactly where we are. I'm guessing we are somewhere in America, but the details are fuzzy. Like you, fuzzy. Anywho, I was wondering if you'd be so kind as to tell me which state we're residing in currently. Why are you? Hmm. Let's pause here a second. Woohoo! Oh yes, baby! Oh yes! Okay. I'm okay now. So which island are we talking about? Onolulu. Wait. Time out. I'm not feeling so good all of a sudden. Why? I don't understand. I don't understand. I have my pronunciation. I'll try again with California. Or maybe, I don't know, another state with a simple name. But the most simple one is Ohio and Hawaii is Hawaii. Let's talk. Hello. What's up? Let's talk. It's really not a difficult question. I said... Why? You know, it struck me that I've been around you for quite some time now, participating in your daily routine. However, I'm not quite sure exactly where we are. Yes. I'm guessing we are somewhere in America, but the details are fuzzy. Like you. Fuzzy. Anywho, I was wondering if you'd be so kind as to tell me which state we're residing in currently? Michigan. So, we live in the Wolverine state? Yes. Anyway, what big city are we near? Detroit. Detroit. Detroit, eh? Perhaps one of these days when you're not at home, I'll sneak out and have a look-see around. Oh, did I say that aloud? Pretend you didn't hear that. Carry on. So, I assume you drive an American-made car, do you? No. Where living where you do, I think you might be worried about marauding bands of jingoists. E' vero? In effetti, Detroit è la Motor City, Ford e cose varie. Avrei dovuto dire di sì, vabbè. Che fatica oggi, però, a farsi capire. Che fatica. Perché dobbiamo parlare dell'America? Perché? Vogliamo parlare. Che ansi Grazie Bello Io amo you! E' certo Fuuun No, ce n'è molto rius fannamente. Nosso. Ne vorbebbiamo parlare. This better be important. Talk. Talk. I must tell you that your country truly fascinates me. Here at the beginning of a new millennium, the most visible signs of change for America is that it continues to get stronger and more influential in the world. Yet for a country with so much influence, it's made up of so many disparate parts. You mid-westerners seem to move at a different, calmer pace than the rest of the country. Yet somehow everyone fits together. Colonial reachings have even brought places like Alaska and Hawaii into the fold. What will your future be like? Will there be 55 states in 100 years? Will there be no states at all? These are the things I think about. And I'm sure you have too. Vabbè, per oggi abbiamo dato con le cose sull'america a posto così. Sono contento che il mio Dreamcast funzioni ancora. Probabilmente farò l'upgrade del lettore CD, però vabbè. Ok, a domani. Come gir mah. Vabbè, non ti cap cents, Vabbè. 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 No. Ingo貴. Grazie a tutti.